26 novembre 2009, Emilio Fimiani compie 18 anni, gli auguri di Sportlink per il giocatore Castellano che davanti ai propri amici sta giocando alla grande con una squadra in C1. Come ti senti a aver esordito così giovani in una squadra di un campionato nazionale? Sicuramente è stata una grossa emozione, poiché passare dagli spalti, da vedere la mia società, la mia squadra, a giocare in C1, riuscire a giocare con loro, appunto aiutarli nel campionato è stata una bella emozione, è stata molto importante per me, anche perché fino a quando giocavo qua, quindi fino alla terza elementare, il mio sogno è stato quello di giocare in prima squadra. Credo che sia una grande responsabilità comunque giocare in una C1, soprattutto riuscire a gestire un gruppo così. Il gruppo è sicuramente stupendo, mi trovo benissimo, mi vado a trovare a mio agio, la società mi ha aiutato moltissimo, soprattutto all'inizio anno, in cui mi sono trovato veramente tranquillo e sereno. Chiedo comunque che sia appunto una grande esperienza soprattutto per il futuro. Come ho detto prima, i ragazzi mi hanno aiutato molto, soprattutto Tony, che è un pochino il padre del gruppo, un pochino più anziano, quello che può dare più esperienza, più aiuto agli altri. Credo che la mia stagione sia iniziata bene, soprattutto per la fiducia che mi ha dato sia la società, i miei compagni e anche la natura. Infatti Max comunque mi ha aiutato moltissimo e credo che sia un buon natura soprattutto per quanto riguarda la mia stagione, può aiutarmi sicuramente in seguito. Quindi credo che sia un ottimo anno, anche soprattutto per il mio futuro. Credo che comunque sia andato bene e il campionato che potremmo fare, penso che potremmo sicuramente arrivare al playoff, se ci arriviamo bene, come stiamo facendo in questi giorni. Quindi comunque anche la squadra mi sta andando bene, ha un forte carattere e per quanto mi riguarda a me piace quando corriamo. Quindi per me è importante comunque creare una situazione di gioco molto veloce, molto rapide. E credo comunque che sia una squadra giovane e quindi riusciremo sicuramente a far bene. Ci serve un po' di tempo, ma perfetto. Un saluto ai miei amici di Sportlink e un ringraziamento alla società che mi sta sicuramente valorizzando e credo che potrà fare un attimo percorso, soprattutto grazie alla società. Grazie Sportlink.